Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale youtube Oggi farò l'unboxing di alcuni accessori per la mountain bike e poi li andrò ad installare Per cui non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di cosa si tratta Ovviamente tutto questo solo dopo la sigla 5,4,3,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti